Sessore, un manto erboso dello stadio adriatico tutto nuovo a poche ore dalla gara di campionato, dalla prima gara di campionato con l'Ancona. Assolutamente sì, oggi siamo qui all'interno dello stadio adriatico per fare appunto chiarezza sulle polemiche che ci sono state la settimana scorsa. Noi siamo qui insieme al tecnico agronomo che ci darà le dovute delucidazioni, ma vogliamo assicurare tutti che il manto erboso è ottimale, ma non sono io a dirlo l'amministrazione comunale, ma soprattutto le squadre che hanno giocato all'interno del campo e naturalmente i tecnici, quindi possiamo stare tutti tranquilli e naturalmente il manto sarà a disposizione per gli atleti che prossimamente usufruiranno del nostro campo da gioco. Paghiamo un ritardo di vegetazione dell'essenza che costituisce in estate il campo, che è una gramigna. È in ritardo perché abbiamo avuto una primavera non troppo calda e quindi la gramigna si è messa tardi in vegetazione e ha messo un po' di tempo per chiudere. Quello che lei vede adesso è dovuto sicuramente a degli interventi che abbiamo eseguito in più per cercare di migliorare e mitigare un po' le negatività estetiche, ma molto l'ha fatto lei stessa, quindi aiutando la colonna del concime con una corretta gestione dell'impianto in riguo. quello che lei oggi vede c'è del lavoro sicuramente extra da parte nostra, ma molto è dovuto all'essenza che poi costituisce il campo vero e proprio, quindi siamo un po' in ritardo, tutto lì. La prima di campionato avrà un campo buono, la seconda avrà un campo ottimo, purtroppo quest'anno c'è stata una stagione caldissima, senza piogge e questo ha influito sul fatto che l'erba ha ritardato di una settimana la crescita, però tutto è bene quel che finisce bene, il campo per la prima di campionato avrà condizioni buone e questa era la garanzia che io volevo dare ai pescaresi e sono venuto a vederlo di persona.